Chiusa la stazione di Sant'Antonio, comune cerca soluzioni. Quella della stazione della circunvesuviana di Sant'Antonio, Torre del Greco, è sempre stata una situazione critica. L'intera struttura è stata più volte teatro di atti vandalici ed incuria, complice alla zona periferica e poco visibile in cui è situata. Le aggressioni si sono abbattute ultimamente anche sui treni in transito ad opera di ignoti. Lo comunica l'Eav che proprio a caso di questi incitenti si è vista costretta a chiudere la stazione per evitare altri danni alle proprietà aziendali. Una decisione drastica che però lascia l'intero bacino di utenza della zona privo di una fermata e quindi di un fondamentale collegamento con i comuni limitrofi. La gente di Sant'Antonio, della Litorane e della Nazionale è costretta a prendere il treno nelle stazioni del centro o in zona Leopardi, ben lontane da casa. Per questo motivo il comune di Torre del Greco sta cercando una soluzione insieme ai vertici Eav, ieri il primo tavolo di incontro a Palazzo Baronale. Un esito positivo per l'amministrazione, la stazione potrebbe riaprire a breve ma a condizione che venga messa in sicurezza. L'ente ha richiesto l'installazione di telecamere per la videosorveglianza per evitare il verificarsi di altri fenomeni di vandalismo e violenza. Tal'adeguamento richiederà almeno altri 30 giorni, quindi la stazione di Sant'Antonio, in attesa della conclusione dei lavori, non potrà aprire entro il prossimo mese. Grazie a tutti!